bisogna dire la verità bisogna dire la verità sono forti veramente forti sapete che la germania non è propriamente la nazionale che mi sta più simpatica però dobbiamo parlare di calcio e se dobbiamo parlare di calcio dobbiamo dire che in questo momento per quello che abbiamo visto la germania è la nazionale che mi ha impressionato di più perché va a rete in maniera facile crea occasioni giocando a calcio facendo delle azioni belle pulite di tecnica di classe e vince meritatamente poi è vero non è che ha giocato contro degli squadroni ha giocato contro scozia e ungheria che non mi permetto di dire che sono scarse ma sicuramente non sono nazionali a livello della germania e quindi appunto la germania ha fatto valere la propria superiorità ora la prova del 9 della germania si avrà più avanti quando ci saranno i big match magari agli ottavi di finale ma già dai quarti sicuramente ci saranno dei big match allora lì sicuramente si possono fare delle valutazioni più a 360 gradi però in questo momento mi sembra che è sotto gli occhi di tutti che la germania sia la nazionale non voglio dire più forte ma più preparata quello sicuramente almeno dal punto di vista del gioco e secondo me hanno tutti gli ingredienti che servono per vincere queste competizioni hanno l'esperienza di neuer rudiger cross gundogan hanno la gioventù di musiala wirz avers hanno la mentalità vincente degli stessi rudiger cross gundogan kimmich eccetera eccetera e quindi è una nazionale assolutamente completa mentre le altre grandi nazionali hanno vinto le loro partite chi su autogol come la francia è lo stesso portogallo chi balbettando come l'inghilterra e anche la stessa italia perché abbiamo vinto in rimonta meritatamente però insomma non è stata proprio una vittoria semplice la germania ha vinto tutte e due partite meritatamente premetto che il primo tempo non l'ho visto perché ho avuto delle commissioni da fare però mi è bastato guardare il secondo tempo per capire che tipo di partita è stata l'ungheria fondamentalmente ha avuto una palla goal per pareggiare quel colpo di testa uscito di poco nel secondo tempo poi però è arrivato il 2 a 0 il gol di i gol di gundogan dicevo e dopo il 2 a 0 è stato un vero e proprio monologo con la germania poteva fare il terzo e anche il quarto gol il primo gol l'ha fatto musiala che quindi sigilla il suo secondo gol di questo europeo e per il momento è anche il capocannoniere insomma ecco anche analizzando la fattura dei gol cioè la germania ha fatto dei gol belli cioè di gol corali c'è un'azione di squadra vedete il gol di gundogan stasera quella è un'azione di squadra la prima partita con la scozia il gol di wirz il gol di musiala cioè sono azioni belle nello stretto allarga il gioco cross basso al centro cioè sono sono azioni di una squadra che sa giocare a calcio ma d'altronde quando a centrocampo hai un maestro come cross e non riesco a capire perché si debba ritirare onestamente che per me attualmente il centrocampista più forte al mondo è un gundogan che sappiamo chi è quello che ha fatto e poi giocare bene a calcio diventa naturale se poi a questi due ci affianchi anche chi mitch insomma stiamo parlando di un centrocampo mostruoso davanti c'è quella beata gioventù che tanto bene sta facendo e quindi è una gran bella germania penso che veramente la germania abbia messo su una nazionale ottima un giusto mix tra giocatori anziani esperti e giovani talenti veramente è un piacere vederli giocare e tra i giovani talenti voglio mettere anche l'allenatore nagelsmann che è un classe 87 quindi 37 anni l'allenatore più giovane di questo europeo e che non ha fatto benissimo al bayern monaco però trasmette proprio quella grinta mi ricorda un po antonio conte no per farsi per farci un esempio più vicino a noi come allenatore italiano quando vedo nagelsmann vedo conte vedete come esulta sui gol ecco tutta quella sua rabbia determinazione voglia poi la trasmette ai giocatori perché poi lo vedi la germania come gioca su ogni pallone stanno bene fisicamente atleticamente c'è una germania forte sia a livello di gioco di squadra ma anche a livello di a livello fisico a livello di intensità nei 90 minuti non calano mai c'è la prima partita è stato un monologo la seconda partita non ho visto il primo tempo però il secondo tempo è stato un altro monologo poi chiaro ripeto hanno affrontato due squadre nettamente inferiori alla germania e questo c'è da dirlo per onor del vero però è anche anche vero che la germania ha dato prova di superiorità schiacciante quindi sicuramente ha vinto e ha fatto il suo però la differenza è che non solo ha vinto ha anche convinto a differenza di altre squadre poi il fatto di convincere può essere anche un discorso fine a se stesso nel senso che pure se vince e convince gironi agli ottavi di finale puoi tranquillamente andare a casa però se analizziamo e se discutiamo di calcio onestamente in questo momento la germania mi sembra la squadra più bella e più convincente un'ultima cosa la voglio dire su croazia e albania finita 2 a 2 quindi un buon risultato per l'italia anche se all'ultimo avremo italia croazia e quelli lì sanno che per passare il turno devono soltanto vincere perché con un punto mi sa che la croazia non passa come migliore terza e dicevo per tutti coloro che criticavano la vittoria dell'italia contro l'albania dicevano abbiamo vinto contro una squadretta ecco qua questi sono i risultati che l'albania attiva a pareggiare contro la croazia 2 a 2 dovete imparare che negli europei non esistono squadrette perché queste squadre minori come l'albania come la slovacchia la slovenia no che pure se sono inferiori comunque hanno passato dei turni di qualificazione quindi per arrivare a giocarsi a giocarsi l'europeo sicuramente non sono le ultime arrivate se non è che stanno giocando con lettonia estonia lituania lussemburgo isole faroer sono comunque squadre che hanno superato degli step per arrivare a giocare queste partite la stessa georgia che sulla carta potrebbe essere una delle più scarse ieri ha messo in serie difficoltà la turchia e meritava quantomeno il pareggio poi ha perso 3 a 1 perché al 97 addirittura l'allenatore ha fatto salire il portiere una follia una follia cioè in questa competizione dove la differenza re ti conta tu che fai su calcio d'angolo alla prima partita fai salire il portiere e ti becchi il 3 a 1 allora sei un asino cioè la georgia l'allenatore della georgia o meglio meriterebbe di non passare il turno per un gol perché è un asino che perdi la prima partita 2 a 1 ci sta non c'è bisogno che fai salire il portiere come se fosse sai l'ottavo di finale o dentro fuori allora l'ultimo calcio d'angolo lo fai o lo subisci il gol stiamo parlando della prima partita del giorno è una roba veramente incomprensibile veramente detto ciò ragazzi vi saluto complimenti alla germania che sta offrendo grande calcio e appuntamento a domani che ci sono due partite molto importanti danimarca inghilterra da seguire ma soprattutto spagna italia ore 21 sempre forze azzurri ciao